Musica Chiusura col botto per la festa dei Santi Patroni lunedì sera con il concerto in piazza Catuma di Rosalino Celammare in Arteron che ha conquistato i cuori e i consensi di migliaia di andriesi accorsi in centro per godersi le soffici menodie del cantautore italiano. Un tripudio di gente dal primo sino all'ultimo brano con successi della musica italiana come vorrei incontrarti fra cent'anni fino ad arrivare all'ottava meraviglia. Non mi sento un maestro ma mi sento un figlio anche di questa terra perché poi alla fine il mio nonno paterno era di Trani per cui quando vengo da queste parti mi sento a casa, sto così bene, sono felice di essere qui. Insomma abbiamo lavorato talmente tanto con Lucio per cui è giusto anche che poi fortunatamente abbiamo anche scritto cose insieme che hanno avuto un grande successo per cui è bello che la gente le senta. Ma c'è una canzone che abbiamo scritto insieme, lui ha fatto il testo e io la musica, è una canzone che si chiama Chissà se lo sai e stasera la farò e è una canzone che piace tantissimo. Che cosa me ne faccio adesso nelle mie lacrime? Ascoltami con raggi te, non voglio dirti a te A presto!